buongiorno miserabili non saranno le lezioni che faremo insieme il 7 il 14 e il 21 novembre miserabili ogni tanto sono i codici linguistici quelli che giustamente state imparando in aula ma che a volte seguendo l'illusione dell'oggettività del racconto imbrigliano il nostro sentire e ci portano a dire un po tutti quanti le stesse cose paradossalmente cose che sono abbastanza lontane da quell'oggettività inseguita e invece quando noi tiriamo fuori la pancia emozionale a volte riusciamo a dire a condividere meglio con il nostro pubblico chi ci legge chi ci ascolta chi ci guarda in televisione quello che noi abbiamo davanti che sia un fatto di cronaca che sia un oggetto che stiamo tra virgolette criticando nasce da qui la cinegustologia io scrivo di tavola e di cinema in maniera ortodossa ogni tanto mi annoio di quello che scrivo per mi sembra di essere appunto io stesso imbrigliato dai codici linguistici e quindi attraverso questo metodo che ho fatto ho fatto una cosa che poi facciamo tutti quanti istintivamente ovvero sia raccontare determinati oggetti determinati fatti con dei sensi che non sono direttamente coinvolti fateci caso noi vediamo un film ma anche ascoltiamo un brano musicale o leggiamo un libro diciamo che quella storia lì o quel brano è duro e crudo e amaro e dolce e tenero e piccante insomma usiamo questa terminologia come se noi quell'oggetto lì lo stessimo veramente assaggiando perché appunto sentiamo il bisogno istintivo di trovare delle vie più libere più laterali di racconto e noi questo lo vedremo in aula in maniera pratica empirica perché attraverso la visione di diversi filmati di film appunto di cinema faremo un racconto attraverso l'enogastronomia che sono dei film di Fellini delle pellicole di Kubrick e dei capolavori di Mario Monicelli sarà un gioco un esercizio che poi vi permetterà di arrivare al cuore delle delle mie lezioni ovvero sia costruire a gruppi un format radiofonico che andrà in onda su radio sapienza quindi preparatevi dove ognuno di voi racconterà un determinato oggetto attraverso la cinegustologia lo scorso anno i vostri compagni hanno riempito il palinsesto dell'ora di pranzo chi ha parlato del giro d'italia ha fatto una radio cronaca del giro d'italia attraverso la cinegustologia chi ha raccontato i maggiori calciatori della storia del calcio associandoli a piatti e vini chi ha parlato di genere musicali chi di serie televisive eccetera eccetera ma starà a voi trovare il vostro argomento quindi preparatevi un po di sana follia e insieme vedrete troveremo un modo per instillare dentro di voi una come dire uno stimolo proprio che quando poi sarete grandissimi giornalisti ve lo auguro presto e bene vi permetterà magari sì sempre di usare i codici linguistici classici per comunicare al vostro pubblico ciò che state raccontando descrivendomi ogni tanto uscire aprirete la finestra e uscirete attraverso questi giochi associativi vedrete che troverete anche il modo di essere più liberi di provare a raccontare quella cosa lì con quel pizzico di follia che chi lo sa renderà il vostro racconto più divertente e magari aiuterà anche voi a comunicarlo al meglio al pubblico a presto